ma c'è tutto bene ma lo fai tutto te l'hai brava bravo sette ancora vi facciamo scusate scusate aspetta 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 spero che tu sappi lanciare la palla si è così, era tutto perfetto questo non così ma così non devi tenere qualcosa di piano guidi e tirai sotto stai indietro sempre avanti se vedi qualcosa si vede bravo fai giù andiamo andiamo perfetto cambio bilancia il pallone quattro precisi addosso quattro sinistra quattro destra e quattro volti prima usa le gambe la chitta ok, prima e qualsiasi perfetto bravo, faglielo, faglielo devi guardare la palla non devi guardare cosa fa B che B non sa neanche lei cosa fa dai, tappa a due blu e un bianco e fai concentrazione no, adesso capito che culo basta dire che faccio lo stesso, lo potete fare anche te lui devi fare questo e lui dovete fare il veloci rap ma questo è quello che aveva imparato a fare il veloci rap con una forza di guarda giù la sinistra adesso lo rimpare ce la fa così? schifo cosa? cioè, girava addirittura così però va bene almeno era qua bravo, ci siamo Sivo però si gira così no, no, perché è il bambino però non dovrebbe farlo perché ovviamente perché sei indietro no, chi altro non devi farlo te l'ha più ti attacco a scala devi attaccare devi attaccare attaccare viva? allora, perciò lui si è già bella attaccare si? non lì questo piano è preciso questo è prestito ehi, ehi ehi, ehi ehi, ehi ehi, ehi perché più ruote è una mincella e più raggiungi perché è il testo ok 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 come spiegare? simone fai fai un'altata non un'altata non un'altata con il suo pallone vieni un'altata svegliato luca terzi è finito si l'ho spesa un primo anch'io non questo è il mio altro luca terzi dai dai hai visto? e questo e questo poi abbiamo come giocatore che hai con il suo eh ma che tu gli fai? è tanto contente che avevo avuto devi ragionare a soltanto e poi ci stavi da perdurato con lui con il bravo l'unica che mi dice cioè come qui lui era scritto a fare qualcosa così si si ho capito come funziona un tamagotchi ho capito come perché lui è in sinistra non c'era le situazioni non c'è capito che ci stavi che ci stai questo è giusto questo è giusto è giusto è giusto è giusto è giusto è giusto Semplici, i giochi potrebbero fare i disturbi di me che si comandevano alcuni giornali. In morte la gamba, sì, allora. Eh, non so. Io non ho parlato di... Vado a prendere. Vado a prendere. Vado a prendere. Vado a prendere. Brava! Come ci vai? Ecco, un po' meno da avanti. Cambia il pen sulla gamba davanti, non tutta la dietro con quel culone. Dai, gli accerti. Sì. Ecco, subito. Ehi. Andiamo, buonga. E' l'inizio. Non c'è, allora. C'è un pacchetto di margarina, andiamo. Facchia tensione. No, no, no. No, vai la luce. Un caso. No. Non c'è, non c'è. 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 Uo, è stato preso toglie pentru fizesza. L'hai avviato. L'abbiamo avviato. Riavviato. L'abbiamo presiato. 12. 12. 13. 13. È corto Pelone. Sì. È corto Pelone. Sì. era l'unico più che mi veniva in mente corte, fede i piedi, andiamo ma che vuoi? mi metterà apposta